Ello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Tiger Games e oggi vi dirò le news Allora, questo video non è proprio un video ma è un blog, quindi lasciamo stare i video e mettiamo blog Allora, questo video... questo blog... sì Allora, prima di tutto vi volevo dire che non ho fatto più video perché quest'anno ho gli esami di terza media e quindi ho molto da studiare e molto impegno, quindi non ho potuto fare video Ora che ho trovato un po' di tempo ho detto vabbè facciamo un video così a blog Ehm... questo... cioè ho detto le news perché volevo dire alcune cose cose nuove che farò Allora, prima di tutto iniziamo con la prima cosa, numero 1 Allora, mi serve un futurissimo programma per registrare lo schermo del telefono Perché quello che avevo prima, che era Mobizen, penso che ormai lo conoscono tutti Ehm... che registrava lo schermo del telefono non funziona più, cioè non funziona più sul mio telefono Perché quando lo installo, poi entro nella Play Store e non mi fa installare altre cose Cioè non mi entra proprio nella Play Store È un problema, non so che cosa, non so che cosa Ehm... quindi non ho idea di cosa, come fare a registrare i giochi Oh non so come mettermi perché... Allora, non so come registrare i giochi Quindi... se qualcuno mi vuole consigliare nei commenti sotto Qualche programma che registra lo schermo del telefono Ehm... ho provato a vedere su Youtube se c'erano alcuni programmi che registravano lo schermo del telefono No, ho trovato uno, ma casualmente non era compatibile con il mio telefono Che merda di telefono che ho Me lo dicono tutti Allora... la seconda news Numero 2 Ehm... allora... ho trovato un gioco fighissimo Che sarebbe Fallout Fallout Shelter Che è quello per il telefono Ehm... questo Fallout Shelter In pratica sarebbe Ehm... una versione per il telefono di Fallout 4 Penso che lo conoscono Ehm... ho visto... cioè... è abbastanza uguale a Fallout 4 Però... non è reale Cioè... sono... sono solo dei pupazzetti Ehm... Che in pratica puoi scaricare tutti i giochi che ci stanno sulla Play Store E quindi ho detto... vabbè... lo scarico là a Fallout Ehm... l'ho scaricato là Che sarebbe uguale a Fallout Shelter che sta per il telefono Ho detto... vabbè... magari provo a fare un video tenendo il telefono Così... ehm... riprendere quello che c'è al computer Solo quello potrei fare Ehm... quindi... Poi... Terza news Allora... nella terza news vi volevo dire che Ehm... penso che ormai lo conoscono tutti Clash of Clans Io... è da un bel po' che ci gioco Però... ehm... cioè... mi annoiavo giochendo a questo gioco E quindi l'ho disinstallato Ero con il municipio al 7 Me lo stavo facendo all'8 Ehm... è stato un grosso sbaglio Perché poi ho... ho riflettuto che In realtà... mi piaceva ancora questo gioco E ci volevo ancora giocare E me lo sono dovuto ristallare e ricominciare da capo Non ho mai fatto video perché A parte... che ho preferito fare video su altri giochi Invece con quello Però... mo' che ho iniziato... ho un clan E ho iniziato a fare delle guerre Magari... potrei fare un video su... Ehm... su... quando faccio delle guerre Ho degli attacchi super mega epici Ehm... però... ehm... sul computer Che è sempre il simulatore L'ho scaricato ma anche la dovrei ricominciarlo da capo E quello è il bello E ancora non ho il clan Quindi... Un po'... ci vorrà un po' di tempo Prima di fare un video su quello Ehm... poi... che devo fare? La quarta news Ehm... se ci sta una quarta news Ah... ora... sto scaricando... si ci sta una quarta news Quindi... quattro... numero... quattro news Ehm... allora... nella quarta news vi dirò che sto scaricando sul computer fallout 4 Quindi presto uscirà il video su fallout 4 Ehm... speri... allora... già una volta l'avevo scaricato fallout 4 sul computer Però... ehm... mi diceva che non era compatibile con windows 10 Perché io ho windows 10 Ora ho provato a installare un'altra versione Che sarebbe l'ultima versione almeno credo Ehm... che... penso che sia compatibile con windows 10 Speriamo... perché mi si sta ancora installando Quindi speriamo che è compatibile con windows 10 Allora... ehm... io ho finito qua il video Ehm... se questo blog... non dico più video scusate Ehm... questo... se questo blog vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Scrivete commenti sotto e soprattutto scrivetemi un programma che mi fa registrare lo schermo del telefono Perché sto veramente in crisi Ehm... ehm... e io termino qua il video Bella ragazzi So... ehm... tech Hutchini Grazie a tutti.